Cantiamo gloria a Dio, diamo l'audo a Dio, esaltiamo il nome del Signore. L'audo a Dio, diamo l'audo a Dio, nel tuo tempio santo di gloria. Benedite Dio, esultate in Lui, bene terra su danzate al Signore. Benedite Dio, esultate in Lui, nel tuo nome santo proclamiamo. Cantiamo gloria a Dio, diamo l'audo a Dio, esaltiamo il nome del Signore. L'audo a Dio, diamo l'audo a Dio, nel tuo tempio santo di gloria. Benedite Dio, esultate in Lui, bene terra su danzate al Signore. Benedite Dio, esultate in Lui, il tuo nome santo proclamiamo. Cantiamo gloria a Dio, diamo l'audo a Dio, esaltiamo il nome del Signore. L'audo a Dio, diamo l'audo a Dio, nel tuo tempio santo di gloria. Cantiamo gloria a Dio, diamo l'audo a Dio, esaltiamo il nome del Signore. Gloria a Dio, diamo l'audo a Dio, nel tuo tempio santo di gloria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amore il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Benvenuti nella casa del Signore, stiamo vivendo la nostra Pasqua, la Pasqua che sta continuando in questa settimana pasquale che ci conduce alla Domenica della Divina Misericordia. Perciò da una parte la Pasqua, la risoluzione di Gesù è anche la nostra, ma dobbiamo risorgere soprattutto per incontrare la vera faccia di Dio che è quella della Misericordia. E poi essere anche noi misericordiosi perché la Misericordia è proprio quel fondamento da cui nasce l'uomo, rinasce l'uomo. Quando sei misericordioso con il fratello, con la sorella, fai risorgere proprio i morti. Sai risorgere i morti perché essere morti significa essere chiusi nel peccato dell'odio, nel peccato della mancanza di perdono, eccetera. Carissimi, per celebrare degnamente questi santi misteri e adesso riconosciamo tutti i nostri peccati. Tu che sei nostra pace, chiri e lei sono. Tu che sei nostra Pasqua, chiri e lei sono. Tu che sei nostra vita, chiri e lei sono. Dio Unipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca nella vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo Gloria 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 Padre Onnipotente. Signore, Figlio Onigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Dio Onnipotente ed Eterno che hai redento il tuo popolo con il Santo del tuo Figlio Onigenito, disperdi l'opera del demonio e spezza le catene del peccato perché non sia più schiavo dell'autore della morte, chi nella professione della fede ha ricevuto la vita eterna. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vivereia con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura dall'Api degli Apostoli In quei giorni Pietro disse al popolo Voi, fratelli, siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri. Quando disse ad Abramo Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del tempio e i saldicei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che oramai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i cinquemila. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani, gli iscrivi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interlocarli. Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Dica a Israele, il suo amore è per sempre. Dica alla casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre Il Signore è per me, è il mio aiuto e io guarderò dall'alto i miei nemici E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza Grida di giubito e di vittoria nelle tende dei giusti La destra del Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è innalzata La destra del Signore ha fatto prodezze Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, rendo grazie continuamente al mio Dio per voi A motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù Perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni Quelli della parola e quelli della conoscenza La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente Che non manca più alcun carisma a voi Che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo Egli vi renderà saldi sino alla fine Irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo Degno di fede è Dio Dal quale siete stati chiamati alla comunione Con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro Parola di Dio Prendiamo grazie a Dio Alleluia, Cristo è il suo ruolo Gioia a te il Signore Alleluia, Cristo è il suo ruolo Gioia a te il Signore Sono la vita, la resurrezione Chiunque crede in me Anche se morrà In eterno vita Alleluia, Alleluia, Cristo è il suo ruolo Gloria a te il Signore Alleluia, Cristo è il suo ruolo Gloria a te il Signore Il Signore sia con voi E con il tuo spirito Dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te il Signore In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro Con timore e gioia grande Le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse Salute a voi Ed esse si avvicinarono Li abbracciarono i piedi e lo adorarono Allora Gesù disse loro Non temete Andate ad annunciare ai miei fratelli Che vadano in Galilea Lami vedranno Mentre esse erano in cammino Ecco alcune guardie giusero in città E annunciarono ai capi dei sacerdoti Tutto quanto era accaduto Questi allora si riunirono con gli anziani E dopo essersi consultati Diedero una buona somma di denaro ai soldati Dicendo Dite così I suoi discepoli sono venuti di notte E lo hanno rubato Mentre non dormivano E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore Noi lo persuaderemo E vi libereremo da ogni preoccupazione Quelli presero il denaro E fecero secondo le istruzioni ricevute Così questo racconto si è divulgato Fra i giudei fino ad oggi Parola del Signore Lode a te o Cristo Spirito Santo Soffia su noi Un fiume di pace Un mare d'amor Come una fonte Dai la tua gioia Spirito Santo E vicino di te Spirito Santo E vicino di te Spirito Santo E vicino di te Carissimi siamo oggi nel Vangelo di San Matteo Nel capitolo 28 L'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo E ovviamente oggi il tema fondamentale è quello del annuncio Del annunciare che Gesù è risorto Perciò domenica abbiamo chissuto la Pasqua del Signore Ieri abbiamo chissuto la nostra Pasqua Il nostro passaggio proprio dal peccato alla vita Come abbiamo detto questa Pasquetta significa piccola risurrezione quotidiana E oggi invece dobbiamo dare una testimonianza, un annuncio Così come hanno fatto le donne, come hanno fatto gli Apostoli La Chiesa carissimi esiste per annunciare, per evangelizzare Ecco perché noi in qualche modo dobbiamo ricordare che la parola di Dio Perché l'annuncio parte dalla parola di Dio La parola di Dio non solo ci informa ma ci forma Ci forma Non significa solo sapere che Dio veramente esiste Come vi dicevo tante volte che Lui è risorto Ma poi diventare Ecco quella forma di Cristo Immagine di Cristo Dove Dio può forgiare dentro della mia testimonianza di vita altri cristiani Come io stesso sono stato forgiato In questa forma perfetta, originale, perfetta che è Gesù Attraverso il mio battesimo Così io stesso devo diventare questa forma per l'altro E lo si fa attraverso l'annuncio Attraverso l'annuncio Ovviamente deve essere una corrispondenza tra ciò che sono e ciò che dico Perché se io annuncio Gesù Ma questo annuncio non parte dalla verità della mia vita Questo annuncio non ha nessuna potenza per fare la differenza in te Perché? Perché vedete La parola che io uso ad esempio adesso Per annunciarvi Gesù Come mezzo di comunicazione usa il mio alito Il mio soffio L'aria che esce dai miei polmoni Tu non puoi prestarvi la tua aria Il tuo soffio Io devo annunciare E la stessa cosa per emettere la mia parola La mia parola E la stessa cosa funziona con la parola di Dio Io non posso prestare il mio soffio a Dio Capite? Ma la parola di Dio ha bisogno del soffio di Dio Per essere annunciata E questo soffio di Dio è lo Spirito Santo E lo Spirito Santo si ottiene solo attraverso la preghiera Capite? La prima condizione E la seconda, attenti Rettitudine delle intenzioni Cosa vuol dire? Se io vivo in un altro modo In un modo Ma annuncio Una cosa completamente diversa Rispetto a come vivo Non c'è retitudine delle intenzioni C'è la falsità Perciò non c'è dentro di me lo Spirito Santo Perciò io cerco di appoggiare la parola di Dio Sul mio soffio di vita Che è mortale Ecco perché l'altro non viene colpito Allora vedete Il trucco dell'evangelizzazione È proprio essere pieni di Spirito Santo Che si riceve, ripeto Attraverso la preghiera sincera E veritiera Con retitudine Delle nostre intenzioni Perciò ecco La parola di Dio Non solo ci informa Ma ci informa Nello Spirito Nello Spirito Santo Questa è la prima cosa La seconda Ovviamente questo annuncio Fatto di parole divine Ecco Un po' deve essere presente In tutta la nostra vita Santi dicevano Che la parola di Dio Ci prosegue Prosegue Cioè va Va davanti Capite? In qualche modo ci procede Ecco possiamo dire Poi la parola di Dio Ci segue Segue Cioè È presente In questo momento della mia vita Capite? Che io sto vivendo Nel mio presente Ma anche la parola di Dio Mi insegue Quando io mi sono perso Quelli che sono rimasti indietro E ogni giorno Ognuno di noi rimane un po' indietro Perciò la parola di Dio Ecco Ha questi tre passi Che noi annunciando Dobbiamo ricordare Inseguire con la parola di Dio Che è sempre una parola misericordiosa Di perdono Quelli che sono rimasti indietro Perché Per qualche motivo Si sono arrabbiati con Dio Con il mondo Per se stessi Capite? Allora dove dobbiamo Indirizzare il nostro annuncio? Soprattutto Perché è un annuncio di misericordia Che Dio Ha pagato anche Per te Fratello Che sei L'ultimo In questo mondo Per come stai vivendo Ha pagato In sangue Col sangue Per la tua vita E lo ha fatto gratuitamente Perciò sei prezioso Nei suoi occhi Ecco cosa vuol dire L'annuncio Che insegue Che insegue Che non lascia Non lascia scappare nessuno Nel suo amore Poi ecco l'annuncio Che deve anche seguire La parola che ci segue Eh? A volte noi diciamo Mamma mia Sì Io vado in chiesa Partecipo alle preghiere All'adorazione Ma poi Cosa c'entra questo Dio Con la mia vita Presente? Capite? Allora Sapere anche Annunciare la parola Che non è solo Una questione Teologica Escatologica Distaccata dalla Rarità Della vita Delle persone Ma sapere Ecco Approfondire un po' Il presente Che vive Una persona E poi ecco Questa parola Che io sto cercando In italiano Ecco In qualche modo Che ci anticipa Che non so se si può dire Prosegue Precede Precede Ecco Precede Sì La parola ci precede E che cos'è questa parola Che ci precede? La profezia ovviamente Capite? Che ci apre la strada Perché Non so se vi è capitato Senz'altro Che tu ascolti una predica Ad esempio Un sacerdote E poi Lo chiami Dopo un po' di tempo Dice Padre Si è realizzato Tutto ciò Che Gesù Attraverso te Ha detto Nella tua catechesi Capite? E anche adesso Mentre io sto parlando Ecco Questa parola di Dio Ci precede Capite? Ci precede Perché Dio arriva Come vi dicevo sempre Dal futuro Dal futuro Dio arriva dal passato Con i profeti Con la storia Di salvezza Dio Arriva Anche nel nostro presente Adesso Quando cerchiamo Questa messa Ma Dio arriva Anche dal futuro Che noi non conosciamo Dal nostro domani Perciò Ecco Oggi volevo dirvi Che la Pasqua La risurrezione Deve essere inserita In questi tre ambienti Della nostra vita Nel nostro passato Dove dobbiamo risorgere Perché spesso nel passato Siamo rimasti Bloccati Capite? Incastrati E non riusciamo più a vivere Perché c'è una ferita Pensate che Dio ad esempio Nella parrocchia Un parrocchiano Era veramente un uomo Stupendo dal punto di vista Di entusiasmo Il suo modo Di avere una certa ironia Ma positiva Di scherzare Eccetera Ha una Forse cinquantina E passa anni E' morta la mamma Ma è morta Forse dieci anni fa Io non ho mai Più visto Quest'uomo Come prima E ogni giorno Capite? Tutto scuro Sulla faccia Sul volto Buio proprio E' entrato in depressione Ecco E' rimasto E' rimasto là Con la morte Che è E che è avvenuta dieci anni fa Non riesce a smaltire Perciò Annunciare A una persona del genere Gesù Risorto Farlo risorgere Nel suo passato Quanti di noi Sono morti Oggi Perché non riescono Ad affrontare Questo oggi 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 Di questo coronavirus Capite? Che non si respira Che non si esce Abbiamo ricevuto Un'altra notizia Che Ecco A Milano E' aumentato Il numero Anche Dei contagi Eccetera Questo oggi Ecco Signore Annuncia La tua parola Per noi Per adesso Profettizza Vi ricordo Nell'Ezechiele 37 Ecco Dio fa vedere Al profeta Ezechiele Una Marea Di ossa Inaredite Un mucchio Di ossa Inaredite E' un po' Come qua In Italia Siamo 20.000 Morti E Dio dice Profettizza Profettizza Non piangere Perché il pianto Non aiuta Il pianto Non fa risorgere Ma la parola Ma la parola Profettizzata Allora Io vi invito Carissimi A prendere la Bibbia E profettizzare Su Milano Sull'Italia Profettizzare Significa Aprire la parola Leggerla Capite E Stendere Le vostre mani Su questa città Sulle nostre città Sulle nostre famiglie E dire Come San Pietro Sulla tua parola Signore Io pregherò Sull'Italia Perché ogni parola Carissimi Che passa Dalla tua bocca Ma sul soffio Non tuo Ma dello Spirito Santo Diventa Una parola Creatrice Creatrice Che crea Perché non è la tua parola Ma parola di Dio E la parola di Dio Crea Allora una domanda Secondo voi C'è da creare qualcosa qua In questo paese In questa nazione Tutto deve essere ricreato Perché tutto si è fermato Qua in un mondo È diventato un caos È un caos totale Capite E La Genesi Il primo libro della Bibbia Dice Che quando il mondo Si trovava nel caos Dio profetizzava Annunciava Annunciava sul mondo E questo mondo Si riprendeva E diventava Cosmo Cosmetica Bellezza Capite Allora Stasera Carissimi Vi invito A fare A fare Una cosa molto importante Ecco Prendete Prendete la Bibbia Potete anche avvicinarvi Alla finestra Scegliete un brano Capite E leggete la parola All'Italia Alla nazione italiana Dicendo prima Signore Usami Che io Profetizzando Leggendo questa parola Aiuti All'Italia Agli italiani A risorgere Capite E se tu dirai così Questa parola Non sarà Una semplice Recita Tua Ma una fortissima Un fortissimo Atto creativo Dovete Credere E possiamo fare Questa Cosa Stasera Amare Un po' Questa Italia E questo Popolo italiano Come una madre Che prende A un certo punto Libro Quando un bambino Non riesce a dormire E per farlo Addormentare Cosa fa? Legge Proprio il libro Noi dobbiamo Carissimi Qua leggere Gli uni Agli altri O gli uni sugli altri La parola di Dio Perché Questa parola Ci ricrea Ci ricrea Ci fa Ci fa Risorgere E alla fine Questa parola Ritorna E fa risorgere Anche a noi Anche se noi Leggiamo Questa parola All'Italia Vi racconto Questa storia Perché È venuta In Un poliplinico Di Londra E riguarda Una famiglia italiana Praticamente Una donna Che aveva Una figlia Piccola Di Forse Sei Sette anni E Questa donna Era atea Italiana Non era credente Invece Piccolina Seguita Un po' Dalla Nonna Era credente Perché La nonna La seguiva Ecco La Non solo Informava Ma La Formava E questa Bambina Conosceva tutte Le preghiere E si è malata E finita Proprio Nell'ospedale Di Londra E a un certo E a un certo punto Il suo stato Di salute Proprio Peggiorava E la madre Piangeva Tantissimo E quando la situazione Era Veramente Pesante Loro si trovavano In ospedale La mamma La mamma Dice Che cosa vuoi Che io faccia Amore Per te E la bambina Dice Leggimi un po' La Bibbia E questa atea Ecco Prende la Bibbia Inizia a leggere La bambina Si aglomenta E questa donna Non riesce A smettere Più a leggere Cioè Si inserisce Una curiosità Sempre di più Di più Di più E dopo Dirà Che dopo Tre ore Perché ha letto Tre ore La bambina dormiva Questo è stato Inizio della sua conversione Si è convertita Vedete Perciò Questa parola Che tu Profettizzi Che tu doni Questo annuncio Alla fine Ti fa bene Ritorna a te Per dirvi Quanto è Quanto è forte Questa parola di Dio Un'atea Capite Un'atea Che Neanche voleva annunciare Capite Ma figuriamoci Se tu Prendi la parola di Dio Con una certa fede Con una certa fermezza Ecco Questo Volevo dire Perciò Oggi è La Giornata Direi Direi Del Annuncio E forse Ancora L'ultimo pensiero Perché deve essere Anche un annuncio Un po' Universale Di cui vi ho parlato Sull'Italia Sulle cose globali Grandi Capite Sul mondo Ecco Facciamo questo Annuncio Sul mondo Ma anche Deve essere Un annuncio Pasqueta Un annuncio Pasqua Globale Universale Ma anche Un annuncio Pasqueta Cosa vuol dire? Ecco Dovete Annunciare Profetizzare Con la parola di Dio Sui vostri Familiari Su quelli che avete Nella casa Annunciare Significa Ecco Signore Io adesso Prendo la parola di Dio E la leggo La leggo Sul mio figlio O nei confronti Del mio figlio Capite? E ti chiedo Di proteggerlo Di formarlo Di svilupparlo Come uomo Come cristiano Eccetera Perciò fate Queste due Esperienze Del annuncio Sul mondo Sulla situazione Globale In cui ci siamo Trovati Su Italia Sulla nazione E poi anche Su questo Mondo Piccolo Capite? Sapendo che Nella parola C'è una potenza Io uso sempre Queste due parole Quando Dico una cosa Del genere Pregare sul Macrocosmo Capite? Quel grande Mondo E sul Microposmo Microposmo Capite? Perché noi A volte Guardiamo Questo Macrocosmo In cui Oggi Non si Respira E non Vediamo Più Microposmo Micro E solo Lo Spirito Santo Ti permette Di lavorare Con questo Microscopio Capite? Microscopio Mettere Tutti Pulviscoli Della casa Perché Questi Questi Sono Questi Sono Importantissimi Importantissimi Allora Io concludo Qua E Poi potete Anche Se volete Scrivermi Le parole Che avete ricevuto Sfattuto Sull'Italia Così anche noi Qua Nella casa Di Betania Cercheremo Di inserire Le vostre preghiere Nelle nostre preghiere Per unirle E per renderle Ancora più forti Amen Amen Dopo il Vangelo Cantate al Signore Un canto nuovo Alleluia Da tutta la terra Cantate al Signore Alleluia Cantate al Signore Benedite il suo nome Alleluia Bene Carissimi Adesso Adesso Vogliamo Vogliamo Recitare Le vostre preghiere Quelle che avete scritto In più Anche Aggiungiamo le nostre Preghiamo Signore Per il nostro Santo Padre Per questo Annunciatore Per eccellenza Dona Lo Spirito Santo Il tuo soffio Il tuo Alito Del risolto Su cui Lui possa Trasmetterci Ecco La potenza Della tua Parola E profetizzare Su di noi Per questo Noi ti preghiamo Ascoltaci Signore Signore Gesù Ti vogliamo Affidare Don Emanuele Don Marco Don Bruno Tutti i sacerdoti In modo particolare Quelli che si sentono Soli Per questo Ti preghiamo Ascoltaci Signore Ti preghiamo Signore Di avere Tutti i carismi Nino Paola Silvano 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 Evanda Rita Per questo Ti preghiamo Ascoltaci Signore Ti preghiamo Per tutti quelli Che attorno a noi Che non credono Non ti conoscono per niente Gesù E che non ti seguono neanche Ti preghiamo Perché in questa occasione Di questo periodo O tramite noi O tramite qualcun altro Possono incontrarti Per questo Ti preghiamo Ascoltaci Signore Tutti i nostri anziani Soprattutto nelle case Di ricovero Sono tantissimi Che sono morti Sono tantissimi Che sono infettati Signore Sono nostre madri Nostri padri Nostri nonni Nostri amici Ieri abbiamo visto Tanti filmati Con la tragedia Che stanno vivendo Queste persone Affidiamole Tutte Tutte a te E vogliamo Adesso Signore Profetizzare Su di loro Ecco Su questa ossa Dal punto di vista Biologico Che sembrano Inaribite Signore Proteggi Tutti i anziani Tutti i anziani Quelli Nei ospedali Nei ricoveri Ma anche Nelle case Perché tantissimi Vivono Nelle nostre case Signore Proteggi E fa Che anche loro Possano Con la propria Sofferenza Contribuire Alla salvezza Degli uomini Nel mondo Per questo Noi ti preghiamo Ascoltaci Signore Glorie al Padre Al Figlio Allo Spirito Santo Come è Il Dio E adesso Scambiamoci Carissimino Di pace Vieni Spirito Di vita Soffia Sunti Noi Vieni Vicini Te Io L'ho Detto E Io Lo Farò Voglio Segnar I Te Vivere Io L'ho Detto E Io Lo Farò Annuncerete Che Sono Il Signore Io L'ho Detto E Io Lo Farò Voglio Stegar I Dite Vivere Io L'ho Detto E Io Lo Farò Annuncerete Che Sono Il Signore Fede Fratelli Io Sovele Adesso Professiamo La nostra Fede Credo In un solo Dio Padre Impotente Creatore Del cielo E della terra Di tutte le cose Visibili E Invisibili Credo In un solo Signore Gesù Cristo Unigenito Figlio Di Dio Nato Dal Padre Prima Di Tutti I secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è suscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e il nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella gioia della Pasqua ti presentiamo, Padre, i doni sacrificati, di cui la Tua Chiesa mirabilmente si nutre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, e con il tuo spiro, in alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore. Prendiamo grazie al Signore nostro Dio, e cosa buona e giusta. E' veramente cosa buona e giusta, che in ogni tempo, Padre, ti benediciamo. Ma soprattutto in questo ritorno saldifico del mistero pasquale, quando l'umanità risorge, nasce la vita eterna, e a noi è donato il principio di una gioia senza fine. Per questo disegno d'amore, uniti agli angeli e ai Santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della Tua Lode. Santo, santo, santo è il Signore, il Signore è il Dio dell'universo, di Cielo e della Terra, pieni su della Tua gloria, osanna nell'arco dei Cieli. Veramente santo sei il tuo Padre, è fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. E gli offrendosi liberamente alla sua passione, presi il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiate di tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, presi il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clamenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli, con Sant'Ambrogio e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni odore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia. Penso che tutti siamo stati colpiti nel Vangelo di oggi da una cosa che hanno fatto i farisei dicendo proprio ai propri soldati, ai propri discepoli. Ecco, cercate di dire che mentre noi dormivamo ecco, sono venuti gli apostoli e hanno rubato il corpo di Gesù. Perciò lui non è risolto ma è una grande truffa. Guardate che questo atteggiamento si chiama nella teologia delitto semantico. Delitto semantico. Cosa vuol dire? Quando tu hai una verità, un fatto, la prendi, prendi la parola, che è ad esempio la risurrezione, ma cambi il significato. Perciò la risurrezione, in questo senso, è una grande truffa. Noi spesso, ecco, prendiamo una parola e poi cambiamo il significato di questa parola dentro. Spesso facciamo anche con il nostro Signore, perché, ecco, io ad esempio vivo una situazione essendo nel peccato, ma per difenderla, qualche mio vizio, allora cerco di dare un altro significato alla parola. e spesso capita così che per difendermi io mi difendo, difendo il mio peccato dentro con la parola che scelgo. Ecco, ma Dio ha detto questo, come Sarra, ma nel deserto, ad esempio, ma c'è scritto anche non solo di pane, vivrà l'uomo. Capite? Perciò preghiamo adesso per tutte le volte in cui noi abbiamo commesso questo diritto semantico, quando noi commettiamo questo diritto semantico, quando la mia vita non corrisponde con ciò che io sto dicendo. Capite? Io vivo in un altro modo e annuncio e parlo in un altro modo. Questo è il diritto semantico. Preghiamo carissimi perché possiamo essere sì, sì, no, no. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma non ci indurre in tentazione ma non ci indurre in tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mari, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu ha la potenza e la gloria di sé. Signore, Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e reghi nei secoli dei secoli. Amén. La pace e la comunione del Signore nostro, Gesù Cristo, siano sempre con voi. E con il tuo Spirito. Beati l'invitati alla cena del Signore, ecco l'agliello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io sono degno di partecipare alla promenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga a te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Amen. La vita è cosa possiamo provare, la vita è cosa possiamo provare, la vita è cosa possiamo provare. Cosa possiamo provare. Ch variables. Gli individui. Sei la verità Sei il mio amore Sei la mia speranza Gesù Sei la verità Sei il mio amore Sei la mia speranza Gesù Sei la verità Sei il mio amore Sei la mia speranza Gesù Sei la verità Sei la verità Sei il mio amore Sei il mio amore Sei il mio amore Sei la mia speranza Gesù Preghiamo Guarda con bontà il tuo popolo Dio e poiché l'hai rinnovato con gli eterni misteri guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Chi rilezzo. Chi rilezzo. Chi rilezzo. Chi rilezzo. Amén. Il Dio che nella risurrezione del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera vi renda partecipi della sua vita immortale. Amén. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amén. 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 Amén.